Musica Ore 19.34, l'Irpinia ricorda il sisma del 1980, 40 anni fa, il 23 novembre, il terremoto che devastò i paesi di Campania e Basilicata. Nella registrazione di Radio Alfa di Avellino, il terrificante rumore della scossa, il messaggio di Mattarella è stata la peggiore catastrofe della Repubblica. Da Sant'Angelo all'Aviano, il dolore ancora vivo, le testimonianze dei sopravvissuti nel Comuni del Cratere, a Sant'Angelo il Parco della Memoria, anche nel Salernitano il sisma provocò centinaia di morti, il monito dell'Arcivescovo Bellandi. Oggi aiutiamo chi soffre per un altro terremoto, il Covid. Covid, rebus, scuole, i sindaci non le aprono, la regione decide sul possibile ritorno in presenza per asili e prima elementare, ma molti primi cittadini hanno già annunciato che prolungheranno la chiusura. Contagi in calo, ma si allunga l'elenco delle vittime tra gli operatori sanitari. Covid nel Sannio, il monito di Mastella, non si abbassi la guardia, il sindaco di Benevento frena sulla riapertura delle scuole. Intanto in Irpinia, nel Salernitano, ancora morti negli ospedali. A Solofra, anziano suicida, temeva di essere positivo. Droga, faida tra clan per la piazza Contesa, sparatori e distorsioni per il predominio delle piazze di spaccio dalla periferia al centro di Napoli. I carabinieri hanno arrestato tre pregiudicati, sono tutti affiliati ai clan rivali dei Rinaldi e dei Mazzarella. Lavori sul raccordo Avellino-Salerno ed è subito il caos. L'inizio dei lavori sul raccordo ha provocato rallentamenti e disagi. L'ANAS ha approfittato della zona rossa per intervenire, ma il sindaco di Pellezzano adotto channel avverte interventi indispensabili per la sicurezza, ma si rispetti la tabella di marcia. Eccoci, questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. E dunque a 40 anni dal terremoto dell'Irpinia, una provincia, un'intera regione che riflette su quanto è accaduto, su una ricostruzione lunga e dolorosa per il presidente Mattarella, la più grande tragedia della Repubblica italiana. E allora apriamo i nostri servizi, la nostra ampia serie di servizi dedicata proprio al terremoto dell'Irpinia del 1980. 23 novembre 1980, ore 19.34 della prima scossa, quella mortale, c'è un unico suono registrato. La puntina che graffia un disco che trasmetteva Radio Alfa, fondata dal giornalista pioniere Ciro Vigorito. I morti del terremoto tra Irpini e Campania furono quasi 3.000, quasi 10.000 i feriti, 280.000 gli sfollati, di quella che fu una delle più grandi tragedie nazionali del secolo scorso. Radio Alfa, tra tante testate, giornali e tv che raccontarono la tragedia divenne il radioterremoto, con le scosse raccontate in diretta, i baracchini del radioamatore, smontati dai camion di un'azienda per collegarsi con i centri più colpiti. La benedizione, di Papa Voitila, raccolta in esclusiva in mezzo ai terremotati, il ponte radio tra la comunità Irpina all'estero e i parenti che avevano perso casa e affetti, e poi giornalisti, inviati da Ciro Vigorito nei paesi rasi al suolo dal sisma. Oggi, in occasione del quarantennale del terremoto, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ricorda le sofferenze, la disperazione e i sacrifici che si sono prolungati per anni nel percorso di ricostruzione. È stato il più catastrofico evento della storia repubblicana, dice Mattarella. Il sindaco di uno dei paesi più colpiti dal sisma, Sant'Angelo dei Lombardi, aveva invitato Giuseppe Conte in occasione del quarantennale, ma per l'emergenza Covid il premier oggi non è a Sant'Angelo. Ma Conte ha risposto, però, a Marco Marandino. La ricostruzione è stata lenta e difficoltosa, dice Conte, ma oggi il suo territorio mostra i segni di un grande impegno di rinascita e crescita. Il Papa L'Angelus ha ricordato quell'evento drammatico, le cui ferite, anche materiali, non sono ancora del tutto rimarginate. Poi il ricordo del governatore Vincenzo De Luca della tragedia delle vittime e della ricostruzione infinita. Noi rivolgiamo ancora una volta il nostro pensiero a quelli che hanno perduto la vita e i loro familiari. Abbiamo fatto di tutto in queste settimane per portare a conclusione, sembra incredibile, dopo 40 anni, problemi amministrativi che erano rimasti sospesi. E' un dolore ancora tangibile. Oggi siamo stati in uno dei centri più colpiti della zona del cratere Sant'Angelo dei Lombardi. È andato per noi, Angelo Giuliani, ha raccolto molte testimonianze. Vediamo. Sant'Angelo dei Lombardi è stato il comune che ha pagato il prezzo più alto al sisma del 1980 in termini di vite umane. 482 persone morte in quella immane tragedia. Tra le vittime è anche il capitano dei carabinieri Antonio Pecora. Il dolore è ancora vivo nel ricordo di quei giorni da parte della vedova, Erminia De Luca. Io lo ricordo tutti i giorni e per me tutti i giorni in questi 40 anni sono stati uguali. Mi fa piacere che si continui a ricordare soprattutto quei momenti terribili e le persone cadute, soprattutto per i giovani di oggi. Che possa essere per loro invece un augurio di speranza, di cose belle. Storie che si intrecciano tra i sopravvissuti. Chi come il signor Angelo è stato graziato dal destino. Un mancato appuntamento al bar del paese che probabilmente gli ha salvato la vita. Ero a casa insieme a mia moglie e i figli piccoli e ho visto le due case che si incrociavano proprio. Noi eravamo sulla scalinata, abbiamo rotolato solo la scala. Una cosa che non finiva mai. Dovevo venire a incontrarmi con Rincini, con Geometra, al bar Corrato. Poi ho fatto tardi perché mi è arrivato mio zio con mia cugina, mi sono fermato a casa e mi sono salvato. Altrimenti in quel bar Angelo Amoroso non c'era più. E poi ci sono gli emigranti. Il signor Giuseppe quel 23 novembre era in Svizzera, ma in quelle ore drammatiche il richiamo della propria terra è stato troppo forte. Ho sentito per televisione che c'era il terremoto e la mattina dopo siamo partiti. La fortuna che i genitori erano vivi, sia da parte mia sia da parte di mia moglie, però le case erano cadute, non si poteva raggiungere il centro storico. Un grido di dolore che resta nella storia, quello di Sandro Pertini, il presidente che riuscì a restituire proprio con il suo messaggio la dimensione della tragedia in Irpinia. Le sue parole sono ricordate in un video trasmesso dai carabinieri che vogliono così rendere omaggio ai tanti militari caduti durante il terremoto. Vediamo. Sono tornato ieri sera dalle zone devastate, dalla tremenda catastrofe sismica. Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò, interi paesi rasi al suolo. La disperazione poi dei sopravvissuti vivrà nel mio animo. Cittadini sopersiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato, mi hanno detto, vede, i soldati e i carabinieri che si stanno prodigando in un modo amirevole e commovente per aiutarci. Oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare. Gli italiani devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi loro fratelli colpiti da questa sciagura. Perché credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai didi. Gli italiani devono sentirsi mobilitati per aiutarci. E non sono mancate le commemorazioni ed altre ce ne saranno fino a questa sera alle 19.34 quando saremo invitati tutti a rispettare un minuto di silenzio in ricordo delle quasi 3.000 vittime di quel terremoto. C'è stato anche un annullo filatelico speciale e poi l'inaugurazione del Parco della Memoria. Vediamo. Impossibile dimenticare. I comuni salernitani dell'Alta Valle del Sele completamente erasi al suolo. I soccorritori arrivati ore dopo che trovarono interi paesi devastati. Nel quarantennale del sisma anche la provincia di Salerno ricorda quella tragedia, emblematica alla testimonianza di Laviano, con il sindaco che ricorda la tragica storia della tomba senza foto del neonato di appena un mese ucciso dal crollo della casa insieme alla madre. Molte storie mi hanno toccato fortemente la mia sensibilità. Molte sono state gli eventi che hanno toccato a tutta la popolazione. Però un ricordo particolare mi va presso una famiglia, la famiglia Ciottariello. Ed è la storia di una famiglia, marito e moglie e figlio che aveva all'incirca un mese. Sulla lapide della mamma e del figlio non vi è la fotografia del figlio, in quanto era così piccolo che non avevano fotografie. Anche il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha rinnovato il cordoglio per la più grande catastrofe naturale della storia italiana moderna, unita alla gratitudine per le migliaia di volontari giunti da tutto il paese per dare una mano. Napoli ha ricordato gli errori, gli sprechi e le malversazioni, ma anche quello slancio solidale che ha contribuito in modo determinante, le parole del sindaco, alla ricostruzione civile e morale. L'anniversario del terremoto dell'80 è l'occasione per l'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi di lanciare un messaggio di fraternità a tutto il territorio. Non solo un ricordo del passato, ma una responsabilità, un invito a continuare nell'oggi, a non voltare le spalle, ma a vivere una capacità di solidarietà, di condivisione con chi oggi è nel bisogno, è in una situazione di disagio, di difficoltà, magari per un altro terremoto, terremoto della pandemia. E questo era il servizio di Giovanni Battista Lanzilli sul fronte salernitano del terremoto. Adesso torniamo in Irpinia, abbiamo detto tante le cerimonie, si è stato inaugurato anche il Parco della Memoria. Vediamo. Seppur in tono minore per le restrizioni anti-Covid era doveroso commemorare il terremoto dell'80 che devastò l'Irpinia. La mattinata Sant'Angelo dei Lombardi si è aperta all'ufficio postale con l'annullo filatelico e la cartolina commemorativa in edizione speciale, fortemente voluta dal presidente della provincia, Domenico Biancardi. È una giornata che ci impone a tutti quanti noi i ricordi di quel giorno, di quell'ora, di quei secondi terribili dove ognuno di noi oggi si ferma per un attimo e comincia a pensare. Poi la deposizione di una corona davanti al cippo della caserma dei carabinieri che ricorda il sacrificio dei sette militari dell'arma morti sotto le macerie. Sono stati loro stessi a invocare gli altri carabinieri a prestare servizio e soccorso alle popolazioni, di darsi completamente alla gente. Questo è il segreto di noi carabinieri. Essere stati qui, seppur in misura un po' ridotta, non fa venire meno il grande valore di questo momento. La più grande tragedia dopo il Covid è il terremoto dell'Irpinia. Questo ci deve far riflettere di come noi dobbiamo creare una comunione istituzionale per ripartire da questi territori. Perché tutti gli errori che si potevano fare sono stati fatti. Per oggi non possiamo continuare a commemorare continuando a fare sempre gli stessi errori. Dobbiamo guardare oltre. Infine l'inaugurazione del Parco della Memoria, con la lapide che ricorda tutte le vittime di Sant'Angelo, e la deposizione di due corone, una del Presidente della Camera, Roberto Fico, e l'altra dell'amministrazione comunale. Ricordo i giorni di grande dolore, di polvere, di urla, di disperazione e di persone che dovevano essere salvate, di chi cercava di aiutare. Però intanto, dopo la venuta di Pertini, ho anche il ricordo di una grande solidarietà istituzionale del volontariato del Paese. Adesso andiamo a parlare dell'emergenza sanitaria. Si raffredda la curva epidemiologica in Campania, anche grazie alle misure più restrittive. Ma le vittime sono ancora tante e le corsie degli ospedali sono ancora piene. Intanto è scontro sulla riapertura delle scuole. I sindaci non riapriranno. Rallenta la curva dei contagi in Campania, il rapporto tra positivi e tamponi scende al 13% e i contagiati delle ultime 24 ore sono 3.217. Ma le corsie degli ospedali restano piene. Secondo il bollettino dell'unità di crisi, le terapie intensive occupate sono al momento 201 su oltre 650 posti complessivi disponibili. Il Governatore De Luca parla di situazione delicata ma sotto controllo. Mentre il Sindaco di Napoli, ancora una volta dagli schermi di La Sette, attacca. In Campania solo chi ha i soldi può evitare di non morire. Mancano ambulanze e ossigeno. La gente è costretta a cedere ai poteri criminali. Nel frattempo la Procura di Napoli, al termine della primissima fase di indagine, prova a stringere il cerchio delle eventuali responsabilità sulla morte di Giuseppe Cantalupo, l'84enne deceduto nel bagno del Cardarelli e ripreso con un telefonino da un paziente che poi è scappato dall'ospedale. E sempre nel napoletano si registra il decesso per Covid di un altro operatore sanitario, un sessantenne di San Giuseppe Vesuviano. Mentre a Melito si piange la morte del Sindaco Antonio Amente, il primo cittadino medico di 69 anni, era stato eletto quattro volte alla guida dell'amministrazione comunale. Era ricoverato all'ospedale di Giuliano dal 9 novembre, come lui stesso aveva annunciato dalla sua pagina Facebook, per una crisi respiratoria dovuta alla positività al Covid. Nelle prossime ore, infine, si deciderà se riapriranno le scuole dell'infanzia e le prime elementari. La Regione attende l'esito dello screening su operatori e bambini, avviato già da qualche giorno, ma nel frattempo si dà carta bianca ai sindaci che potranno decidere da domani di riaprire in autonomia le scuole. L'orientamento generale è di tenerle comunque ancora chiuse per qualche settimana e anche l'Anci aveva già fatto sapere di ritenere ancora prematuro il ritorno all'attività didattica in presenza. A Napoli, sequestrati 24.000 capi di note griff false, denunciato tre persone che vendevano i prodotti online. Il Covid non ferma il falso. Vediamo. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro presso due depositi di Giuliano in Campania e Casandrino quasi 14.000 capi di abbigliamento contraffatti e denunciato tre responsabili per e-commerce di prodotti con marchi false di note griffe di moda. L'operazione ha preso le mosse da un'attività info-investigativa condotta dai finanzieri della compagnia di Giuliano che tramite il monitoraggio delle pagine dei principali social network hanno scoperto una rete di vendita online dei prodotti contraffatti. Attraverso pedinamenti e appostamenti le fiamme gialle hanno individuato due depositi adibiti ad Autolet gestiti dai tre responsabili. All'interno sono stati scoperti i capi di abbigliamento con brand contraffatti dei noti marchi quali Gucci, Fendi, Disquared, Palm Angel. Nei depositi è stata rinvenuta anche documentazione contabile attestando l'elevato numero di spedizioni degli articoli in tutta Italia. In particolare i responsabili esercitati esclusivamente attraverso i canali internet proponevano a ignari clienti l'acquisto di merce di altissimo valore commerciale vendendola alla metà del costo indicato sui cartellini che accompagnavano il prodotto facendo credere agli acquirenti che si trattasse di articoli originali ricevuti a prezzo di realizzazione. L'operazione del comando provinciale si inquadra nell'ambito della costante attività della Guardia di Finanza a tutela del Made in Italy. Andiamo nel Sannio, continuano ad aumentare i casi covid nelle prossime ore la decisione sulla riapertura delle scuole il sindaco Mastella invita a non abbassare la Guardia. Nel Sannio sono ormai oltre 1900 le persone contagiate dal coronavirus e 113 delle quali ricoverate in ospedale. Continua ad aumentare anche il numero dei morti dati non certo rassicuranti sui quali si è soffermato il sindaco Clemente Mastella che lancia un appello affinché non si abbassi mai la guardia. C'è la crescita stranamente nelle province e non nelle aree metropolitane. Milano-Napoli tocca meno il covid di quanto tocchi, avete visto, Caserta di qua da noi. Quindi anche da noi, anche stamattina, la situazione dell'ospedale non è che sia buona. perché c'è una fonte esponenziale di aumento di covid positivi incredibile. Per quanto riguarda le scuole Mastella spiega di essere in attesa delle decisioni da parte della regione, poi una previsione. Domani posso riprendere magari gli asilo e al tempo stesso gli asili nido e la prima elementare, come era stabilito. Ora non so quello che farà De Luca. Stanno vedendo, oggi pomeriggio daranno la risposta. Credo però che la diattica a distanza, per quanto riguarda le scuole superiori, si apriranno tutte, in tutta Italia, credo, a gennaio a questo punto. Sul Natale il commercio, il primo cittadino, non si sbilancia, ma auspica che le compre si facciano nelle attività locali, rispettando sempre l'enorme anticontaggio. Mi auguro, io voglio immogliare tutti quanti i sanniti beneventari a comprare cose beneventane, dei negozi beneventani e prodotti beneventani o al limite prodotti campani. Questa è l'unica cosa auspicabile. Quindi fare noi un Amazon locale. Poi un pensiero al terremoto del 1980. Chiamai De Mita e concordammo che io sarei andato a Roma a parlare e a chiedere aiuti e il gruppo dirigente avellinese sarebbe rimasto nelle zone là per venire incontro, per essere di riferimento alle popolazioni. In Mirpini ha quattro morti per il Covid in poche ore, ma rallentano i contagi a Solofra. Però un 75enne in isolamento positivo ha deciso di togliersi la vita e sono tante le persone provate psicologicamente dalla pandemia. Vediamo. Coronavirus, quattro morti in poche ore in Irpini, ma rallentano i contagi, 93 quelli accertati nelle scorse ore dall'ASL. Due decessi al frangipane di Ariano. Si tratta di un 79enne di Torri Annunziata e di un 87enne di Ariano. Ancora vittime al Moscati, dove è morto un 72enne di Atripalda, mentre all'Andolfi non ce l'ha fatta una 91enne di Volturara. È partito intanto lo screening sanitario su alunni, familiari e personale delle scuole e sono solo tre i positivi accertati su 2.119 tamponi eseguiti. Ha solo fra circa 100 i casi di contagio. Il sindaco, Michele Vignola, risultato positivo al Covid, rassicura sulle sue condizioni. Non ho alcun sintomo, sono in attesa del tampone di verifica per la negativizzazione. Nella mia città siamo a un centinaio di unità di positivi. Per fortuna negli ultimi giorni c'è un crescendo di guariti. In paese intanto c'è lutto e cordoio per il suicidio di un uomo di 73 anni. Ieri mattina in via Masseria l'uomo è salito sul balcone di casa sua e si è lanciato nel vuoto. Il sindaco Vignola ricorda il servizio di sostegno psicologico attivo per i comuni della Valle dell'Irno. Innanzitutto la mia vicinanza alla famiglia. Non so se nel caso di specie, in questo caso, c'è una stretta connessione con il fatto che questa famiglia comunque stava facendo un isolamento. In ogni caso è chiaro che è comunque una condizione difficile, particolare, che mette in difficoltà le famiglie assolutamente da non sottovalutare. Ancora vittime anche nella Salernitano. A Buonabitacolo un altro decesso tra gli anziani positivi ospiti della casa di cura è diventata un focolaio. Non si fermano i contagi, nuovi infetti anche a Pagani, dove chiudono gli uffici. Intanto fioccano le multe nel fine settimana per il mancato uso della mascherina. Vediamo. Calano leggermente i contagi da Covid-19 nel Salernitano, ma si registrano ancora vittime. Ennesimo decesso, il quinto, tra i degenti della casa di riposo di Buonabitacolo, a perdere la vita un'anziana, era ricoverata all'ospedale di Polla, la comunità di Sarno. Si stringe al dolore di un concittadino morto all'ospedale di Scafati, anche ad Angri. Il primo cittadino, Cosimo Ferraioli, ha annunciato una nuova morte nel comune. Un altro decesso, anche ad Eboli, dove sale a 12 il triste bilancio, in segno di cordoglio, bandiere a mezz'asta nel municipio. Dolore anche a Buccino, dove si è spento un 83enne a Mercato San Severino. Altra vittima, deceduta all'ospedale da Procida di Salerno. Ancora contagi nella sede del comune di Pagani. Chiudono altri uffici. Intanto la FIALS di Salerno lancia l'allarme e criticità nelle cliniche private. La sanità pubblica ha gestito meglio l'emergenza coronavirus. Noi ci stiamo impegnando allo stremo delle forze. stiamo ribattendo colpo su colpo. Abbiamo e avremo, perché questo fa parte del discorso legato all'epidemia, i nostri casi di positività. Ma li stiamo gestendo alla meglio. Li stiamo gestendo senza arrecare nessun danno a nessuno. e stiamo trattando anche casi particolarmente complessi, soprattutto nel settore della gravidanza rischia. Intanto le forze dell'ordine nel fine settimana nel Salernitano hanno controllato 880 persone, 18 quelle sanzionate per mancato uso della mascherina, 297 gli esercizi commerciali controllati, uno multato, chiuso un bar a battipaia che permetteva la consumazione di bevande all'interno del locale. Sparatorie ed estorsioni per il predominio delle piazze di spaccio. I carabinieri di Napoli hanno arrestato tre pregiudicati affiliati ai clan rivali di Rinaldi e Mazzarella. Vediamo. Si contendevano le piazze di spaccio creando una guerra sanguinosa. Questa mattina i carabinieri di Napoli hanno arrestato su ordine del GIP del Tribunale Partenopeo tre persone appartenenti a due contrapposti gruppi camorristici ritenuti responsabili a vario titolo, di estorsione, porto e detenzione illegale di armi, tutti aggravati dalla circostanza del metodo mafioso. Le indagini coordinate dalla Didi hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza prima a carico di due persone che agendo per conto del clan De Luca Bossa-Mennichini-Rinaldi, organizzazione criminale riconducibile alla cosiddetta alleanza di Secondigliano, responsabili di un tentativo di estorsione commesso il 12 gennaio 2018 ai danni del titolare di una piazza di spaccio attiva nel quartiere Mercato. Secondo le indagini i due si sono recati dalla vittima per riscuotere la tangente ma qui hanno trovato un altro affiliato del cartello contrapposto dei Mazzarella che ha esploso nei loro confronti numerosi colpi di arma da fuoco, mettendoli in fuga. Gli eventi appunto si inquadrano nell'ambito della violenta contrapposizione dei Mazzarella e quello dei Minichini-Rinaldi De Luca Bossa, quest'ultimo interessato tuttora a estendere la propria sfera di influenza dall'area di San Giovanni a Teduccio Ponticelli a quella centrale del capoluogo. Intanto proprio ieri sera nel quartiere di Bagnoli a Napoli i militari hanno bloccato con l'accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 46enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo armato di forbici pretendeva del denaro per comprare la droga e ha minacciato suo fratello. L'anziana madre ha tentato di calmarlo ricevendo uno schiaffo. Le vittime sono fuggite in strada e hanno trovato la gazzella dei carabinieri. Rifiuti, questa mattina a Benevento la presentazione di 16 nuovi automezzi messi in strada dalla SIA che miglioreranno il servizio di raccolta porta a porta e limiteranno anche l'inquinamento durante la marcia. Vediamo. 16 nuovi camion e furgoni che da domani mattina a Benevento entreranno in funzione per la raccolta dei rifiuti. Mezzi di ultima generazione che rispettano anche i severi criteri antinquinamento previsti per le città. Sono stati inaugurati oggi dall'Asia che nel capoluogo San Nita si occupa della raccolta dell'immondizia. Un traguardo importante per una società che fino a qualche anno fa aveva debiti importanti ma che oggi si sta risollevando ed ha presentato un nuovo piano aziendale. Proseguiremo poi con un altro lotto successivamente per arrivare ad un rinnovo di una quarantina di automezzi sui 60 con automezzi in circolazione che sono utilizzati per gli servizi di raccolta accolta nella città. Questo è un risultato importante perché non dobbiamo indicare che l'azienda viene da una fase in cui alla fine del 2017 quando sono arrivato era un'azienda che decotta, un'azienda che era quasi in uno stato di prefallimentare per cui oggi inaugurare 16 automezzi nuovi di una prima tranche che ci porterà poi al rinnovo di 40 automezzi è un risultato molto importante. I nuovi camion contribuiranno anche a far abbassare il livello dell'inquinamento in città. Ha invece spiegato l'assessore comunale all'ambiente Gerardo Giorgione. Questi mezzi che naturalmente inquineranno anche di meno daranno un contributo favorevole, importante e anche speriamo che sia determinante per abbattere anche questi aumenti indiscriminati di polveri sottili che purtroppo in questo periodo stiamo assistendo. L'inizio dei lavori sul raccordo autostradale Salerno Avellino ha subito provocato rallentamenti e disagi. L'ANAS ha approfittato della zona rossa per intervenire proprio in queste settimane. Il sindaco di Pellezzano ad Otto Channel dice che sono interventi indispensabili, ci auguriamo solo che si rispetti la tabella di marcia. Vediamo. Con l'inizio dei lavori sul raccordo autostradale Salerno Avellino sono arrivati i primi disagi per residenti e pendolari che questa mattina sono rimasti imbottigliati sulla bretella che collega le due province campane. ANAS ha approfittato del periodo di zona rossa per effettuare la manutenzione e la messa in sicurezza delle barriere stradali disponendo la chiusura della carreggiata sud fino al 7 dicembre e l'istituzione del doppio senso di circolazione su quella nord. I lavori interesseranno il tratto compreso tra la Galleria Cologna e la località stella nel comune di Pellezzano. La limitazione negli spostamenti per le norme anti-covid però non è bastata per evitare disagi e rallentamenti che si sono verificati soprattutto negli orari di punta. Una situazione inevitabile per il sindaco di Pellezzano Francesco Morra che tuttavia sottolinea l'importanza di rispettare i tempi per il completamento della messa in sicurezza. Sicuramente di essere quanto più veloce possibile di potenziare il personale soprattutto sul cantiere perché quell'arteria è molto delicata, pericolosa tra l'altro che collega la città di Salerno all'Università di Fisciano è un'arteria molto utilizzata dai residenti del posto e non solo quindi chiediamo di essere quanto più veloce possibile ma soprattutto però dobbiamo tenere alta l'attenzione perché è una messa in sicurezza e quando si parla di messa in sicurezza non possiamo bloccare dei lavori che sono di fondamentale necessità soprattutto per la sicurezza dei cittadini. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!